Oresti Cinquini, braccio destro di Capello della Nazionale Russa, intanto le chiedo quanto è cresciuto ultimamente il campionato russo dopo l'avvento di Spalletti e anche dopo l'arrivo di Capello come Ct della Nazionale? È sicuramente un buon campionato e l'avvento di qualche tecnico non russo ha portato a un miglioramento del campionato, però io credo che ci siano dei margini di miglioramento enormi perché hanno un prodotto umano, dei giovani veramente forti fisicamente, grandi, grossi e veloci che sono il prototipo dei giocatori di oggigiorno. Manca un pochino di cultura calcistica, io credo che l'avvento appunto di persone importanti, allenatori importanti come Capello, Spalletto, Spalletti portano un grandissimo contributo. C'è da lavorare molto, abbiamo però una buona nazionale, stiamo facendo bene e speriamo di poter continuare. Possibile prevedere per il prossimo campionato qualche arrivo di big italiani? Questo non lo so, ci sono alcuni giocatori italiani, leggevo appunto stamattina sui giornali, molti giocatori potrebbero partire. È chiaro che un giocatore che gioca in Italia, in Spagna, in Germania, in Inghilterra difficilmente sceglie di venire in Russia. È chiaro che in Russia ci sono dei guadagni importanti, la scelta di Eto'o è stata dettata, io credo, più che alta da un aspetto economico, più che da un desiderio di venire in Russia. Però il campionato è di buon livello, ci sono dei giocatori importanti. È venuto Diarrà, è venuto Williams ultimamente, tutta gente che l'Angie ha pagato molto perché Williams dello Shakhtore a gennaio è sicuramente un grande acquisto, un giocatore veramente importante. Però lo Zenit e il CSKA che è primo in classifica hanno dei giocatori forti e sicuramente verranno altri giocatori. Loro pescano molto in Argentina e in Brasile, piacciono molto i brasiliani ai russi e quindi io credo che qualche altro buon giocatore arriverà sicuramente. Parliamo della Juventus che sta cercando da tempo l'attaccante giusto per rinforzare il reparto avanzato. Si è parlato di Alexis Sanchez, di Benzema, di Higuain, anche di Suarez. Quale può essere l'attaccante veramente giusto? Sicuramente il Sanchez di Udine con l'esperienza di Barcellona potrebbe essere un grande acquisto, ma io credo che la Juventus abbia bisogno di una punta, una punta centrale fortissima. E Suarez, l'urocomano Suarez del Liverpool, proveniente dall'Ajax, credo che sia un giocatore molto molto importante e che in Europa potrebbe fare veramente la differenza per la Juventus. Ha questi comportamenti abbastanza strani, direi al di sopra delle righe, perché già lo scorso anno era incappato in una squalifica abbastanza lunga, aveva avuto questi problemi con Evra, queste offese, questo rifiutarsi di dargli la mano, diciamo che c'era uno sfondo razzista, quest'anno ha trovato di meglio che dare un morso ad un braccio a Jovanovic. Però questo è un grande calciatore, è un calciatore importantissimo, fa la differenza. Io reputo che come punta centrale lui è uno dei più forti. In Italia si sta parlando molto anche delle panchine, Allegri resterà su quella del Milan, al di là del terzo posto? Ma io, Max, ci ho parlato appunto quando l'ho visto a San Pietroburgo, quando è venuto a giocare la Champions contro Zenit, ho parlato, io credo che abbia fatto un grandissimo lavoro. Se voi pensate che due anni fa ha vinto il campionato, l'anno scorso è arrivato secondo, è arrivato secondo con quell'episodio molto molto discutibile, che è il gol di Montari, anzi gol di Montari, perché lì avrebbe vinto la partita, avrebbe vinto il campionato. E quest'anno sta facendo bene, il Milan non ha fatto grandi investimenti, lui ha cercato di mettere tutto il suo sapere, né a Rosa che gli è stato affidato, io credo che abbia fatto un grande lavoro, dovesse arrivare terzo, avrebbe fatto un altro grandissimo risultato. Purtroppo le esternazioni di Berlusconi sono importanti, lui è il padrone del Milan, quindi nonostante Gagliano lo stia difendendo, credo che Max molto probabilmente cambierà aria ed ha la possibilità di trovare delle buone squadre, perché come sente potrebbe andare alla Roma, potrebbe andare, se Mazzari va alla Roma, lui potrebbe andare a Napoli, quindi io credo che Max avrà un'altra panchina importante se deciderà di andare via dal Milan. E al Milan vede Sedorf favorito? Ma Berlusconi si innamora facilmente, quindi in tutti i sensi, e quindi questo fatto che lui abbia sternato questo suo desiderio di avere Sedorf come allenatore, prima o poi Sedorf siederà sulla panchina del Milan. Non so se l'anno prossimo, tra due anni, lui sta ancora giocando, quindi l'esperienza è importante per dirigere una squadra come il Milan, però ricordiamoci che Berlusconi ha scelto Sacchi, ha scelto Capello, e meriti sconosciuti quando lui gli ha segnato la panchina del Milan. Quindi può darsi che il suo fiuto ancora una volta sia vincente. Moratti invece ha fatto bene a confermare Stramaccioni? Stramaccioni mi sembra un allenatore importante, un allenatore giovane, con delle buone idee, sicuramente è capitato in un anno abbastanza difficile, lo scorso anno è entrato in corsa, ha fatto abbastanza bene, quest'anno ha avuto delle difficoltà, se Moratti, come lui dice, lo confermerà sulla panchina, dovrà certamente però mettere a disposizione qualche giocatore importante, qualche giovane ancora di più importante, perché credo che l'Inter debba essere rinnovata. Cavani interessa a molte big inglesi, ma non è che poi alla fine andrà in Russia? No, Cavani non può andare in Russia, Cavani è un giocatore uno dei migliori attaccanti mondiali, c'è una cronologia risolutoria che se viene rispettata sicuramente qualche club russo lo potrebbe comprare, perché se non va derrato si parla di 63 milioni di euro, non so in quanti anni il pagamento, se tutti cash solo non hanno, questi sono i risvolti di un contratto che non conosciamo in modo approfondito, però Cavani io credo che andrà sicuramente a un grande club, al Manchester City, Manchester United, Chelsea, Real Madrid, il fatto che Mourinho se ne vada e mi sembra che dopo l'esternazione di ieri sera il Chelsea sia la sua più probabile destinazione, qualche giocatore del Real Madrid se lo porta dietro, e forse libererà qualche posto e soprattutto farà incassare un po' di soldi al Real Madrid che potrebbe investire su Cavani.